Ritrovare il coraggio, scendere in campo con la testa a sgombra e giocare con una sana incoscienza. E' questo l'obiettivo che si pone Vincenzo Torrente nel tentativo di far uscire la sua cremonese da un difficile momento. Quattro sconfitte su nove partite, tre delle quali in casa hanno fatto aumentare la pressione su una squadra che sa di essere chiamata a vincere, ma che deve ritrovare la serenità di inizio campionato per esprimersi al meglio. La squadra deve ritrovarsi e pensare, non pensare all'obiettivo, ma pensare alla partita, al momento, al momento. A volte si pensa all'obiettivo, l'obiettivo è una conseguenza di quello che tu fai tutti i giorni e la mente è libera, libera di rischiare, non di fare il compitino. Questa è una squadra costruita per vincere, sono convinto che questa squadra ha tutte le carte per vincere. Domani la cremonese riposa, come l'intero girone A. Lunedì si ricomincia a lavorare, forti del recupero di alcuni giocatori, come Minelli, Palermo e Martinarini, con questi ultimi pronti alla staffetta nella trasferta di San Marino di sabato prossimo. Una settimana importante perché abbiamo recuperato dei giocatori come Palermo, come Minelli, come Martinarini, che mi danno la possibilità di poter scegliere per la prossima partita. E poi è stata una settimana anche per parlare del momento con i ragazzi, sia in gruppo e sia singolarmente. Si è lavorato molto bene, ho rivisto una squadra con la concentrazione giusta, la rabbia giusta, allenati con grande intensità, voglia di superare questo momento negativo.